buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video ci troviamo qui nella bellissima repubblica dominicana passeremo qui una decina di giorni e faremo tantissime bellissime escursioni dove ci troviamo qui esattamente nel cantone la romana che dire siamo da pochi ore qui e già siamo innamorati già è un paradiso stiamo aspettando l'alba e poi andremo a fare colazione seguiteci seguiteci ciao ciao con l'azione salutare macedonia di frutta ciao 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 amici se vi sta piacendo questo video cliccate un like iscrivetevi al canale mi raccomando supportateci per altri contenuti grazie grazie sempre il video non è finito continua una visione ancora ciao eccoci qua siamo per imbarcarci sul calamarano in direzione isola catalina se qui ci vediamo ciao 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 amici siamo appena arrivati a isola catalina guardate qua che paradiso si commenta da solo questo posto ciao 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 amici questa chiesa alle mie spalle si chiama la chiesa di san pacrazio sempre qui qui all'interno del campo e questa chiesa è famosa perché qui si è sposato Michael Jackson con la figlia di Elvis Presley ciao 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 Buongiorno 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 a tutti, stamattina siamo diretti a Isola di Saona Siamo arrivati a Isola di Saona Guardate che mare Adesso ci prendiamo qui a pranzare, faremo il giro del villaggio Un bel bagno e poi si rientra nel reso Stasera cincina dal giapponese qui nel reso, vediamo un po' com'è Sì 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 Qui chiama? PAM 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 PODO Che succia Vale, ti sta piacendo? Buono E' buono E' buono, ok Voglio cantare questa canzone con molto cariño del mio corazón Alla Repubblica Dominicana La casa del merengue e la casa della facciata Amici, buongiorno Stamattina stiamo andando a fare una bellissima escursione L'unica penca Che sono le 5 e mezza del mattino Quindi niente colazione qui nel resort Perché dalle 7 alle 10 Però sicuramente ci spetta Una bellissima giornata ricca di esperienze Seguiteci Musica Musica Te traigo Musica 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 Te Siamo appena scesi dalla barca Dove siamo qui? A Samanah Dove hanno girato il Fungiurast Park Interessante Adesso dove ci stiamo spostando? Samanah e poi dopo andremo alle cascate Si E faremo una passeggia dal cavallo Ok Quasi brutti Musica 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 Siamo scesi da poco dal cavallo Siamo giunti a queste cascate Tutto molto bello qui Davvero molto bello Esperienza da fare ragazzi Mariano Quanti scalini stiamo scendendo? Ma se non ero solo circa 200 scalini Ok No niente ok Il problema sarà salire Non è ok Il problema sarà salire vero? Esatto Mi piace Tenetevi pronti che adesso vi faccio vedere delle cascate bellissime Musica 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 buongiorno oggi siamo qui nel fulmino direzione santo domingo siamo appena arrivati nel cuore di santo domingo in una via principale dove ci sono tutti nei concetti souvenir e cose varie siamo una bella siamo una tramita bella bella e dalla funicolare vedremo dall'alto la favela dato che sono zone pericolose ha detto la guida che è meglio vederle dall'alto andiamo buongiorno oggi giornata safari andremo in giro con con lui molto carino siamo appena arrivati alla scuola dei bimbi siamo molto emozionati e contenti perché abbiamo comprato queste cose per i per i bimbi regaliamo un sorriso ai bimbi è una cosa che ci fa molto piacere l'abbiamo fatto con tutto il cuore quaterni pastelli colori caramelle e qualche giocattolino eccoci arrivati alla fabbrica di sigari che ogni guida alla sua e adesso ci troviamo all'interno dello shop dove ci hanno offerto un sigarello io l'ho preso a gusto vaniglia le al cioccolato ed è veramente il mio è dolcissimo cioè esagerato non ho mai fumato un sigaro così dolce con bellissimo ottima qualità sicuramente faremo un po di shopping oggi credo che possiamo bere, vedremo la carne di zucchero la carne di zucchero assaggiamo siamo proprio nel nel cuore del cacao piante di cacao ovunque lavorazione vengiamo un po' questo c'ho bar diciamo se mi sente questo mi picchia buonissimo, buonissimo, buonissimo la sua pranzo della nostra giornata safari dieci persone qua dopo pranzo il giro sulla zattera buonissimo buonissimo Grazie a tutti. E' finito, ti dice qui la cita sulla zantara, ci siamo divertiti. Eccoci, arrivati qui al campo dei quod e dei baggi e inizieremo questa escursione di 4-5 ore oggi. Io ce l'abbiamo assaggiata. Tra poco il tour continua, faremo diverse step durante questa escursione, faremo anche il cambio da baggi a quod più tardi, quindi mangeremo la frutta e faremo diverse cose divertenti e belle. Adesso si passa al cuocino, altro tipo di divertimento. Abbiamo lavato un po' il viso, adesso dobbiamo lasciare una recensione. Questa è la prassi, si sono comportati bene, quindi comportati bene anche tu nel compilare. Buongiorno a tutti, siamo giunti alla fine di questo video, se sei arrivato fin qui non possiamo che ringraziarti. Grazie mille del tuo tempo, del tuo supporto. Se ti fa piacere iscriviti al canale, ci trovi anche su Facebook e su Instagram. Spero che ti sia piaciuto questo video, al prossimo viaggio. Ciao!